Nonna, se tu mi chiami e io sto facendo la doccia e esco dalla doccia, ti chiamo e tu non rispondi? Sì, perché sono nel bagno? Io mi spavento. Ma scusami, io sono nel bagno e sento niente, ma io non sapevo che tu eri nel bagno, scusa. Scusa, prova ad alzare il piede destro. Non riesci proprio? No, ci riesco, ci riesco. Ma scusami, ti ho spaventato. Ma perché hai fatto una cosa? Ho detto, è caduta, sei fatta male. È svenuta. Scusa, io sono uscito dalla doccia e ho visto chiamata persa. Ti ho chiamato, non mi hai risposto. Tre minuti, ti ho richiamato, non mi hai risposto. Io ero nel bagno e non sentivo. Però cammini male, non ti senti più. Non mi hai risposto, non mi hai risposto.